Professor Caponigro, dopo il pari di Licata, Polisportiva subito in campo per affrontare la capolista ACR Messina, che gara vi attende? Sicuramente sarà una bella partita, sarà una gara difficile, comunque giochiamo contro la capolista, una squadra che è stata allestita per vincere il campionato, quindi sicuramente loro hanno grandi aspettative, noi abbiamo grandi speranze, abbiamo la speranza di continuare a fare bene, di continuare a stupire, a stupirci e continuare soprattutto la nostra striscia positiva. L'anno nuovo sarà caratterizzato da tante gare ravvicinate, si giocherà tanto, chi più di lei può dirci, svolgendo il ruolo di preparatore atletico della squadra, cosa cambia e come si prepara la squadra per affrontare anche dal punto di vista atletico più partite ravvicinate magari rispetto al classico appuntamento settimanale? Non è facile giocare a distanza ravvicinata, soprattutto per quanto riguarda le energie nervose, anche perché se vogliamo contestualizzare comunque siamo dilettanti, quindi anche le trasferte comunque trasferte in Sicilia sono molto faticose, la difficoltà è nel riuscire a reiterare le energie nervose, a tenere sempre alta la tensione, però siamo ottimisti anche perché abbiamo a disposizione una rosa molto ampia. Grazie. Grazie.